Sorgono nuovi sviluppi sulla vicenda dell'inagibilità degli spalti della palestra Nicola Damo di Atripalda. La mancata certificazione per quanto riguarda la presenza degli spettatori nell'impianto di Via Pergola ha indotto l'Atripalda Volley di Serie C, allenata da Angelo Colarusso, a disputare il match casalingo previsto per questa settimana contro Pompei a Cesinali. Negli anni scorsi la presenza dei supporter sabatini era stata consentita attraverso delle autorizzazioni provvisorie che con l'aggiornamento della normativa sono state però eliminate. Ecco perché al momento la presenza di tifosi non è consentita e salvo colpi di scena non lo sarà fino al termine dell'attuale campionato con l'amministrazione comunale impegnata ad ottenere la certificazione di agibilità definitiva che probabilmente arriverà soltanto con l'inizio della prossima stagione. Atripalda Volley ha sempre avuto la possibilità di fare allenamento e di fare attività a porte chiuse. La struttura purtroppo è una struttura che appartiene ad una scuola che non aveva fino a pochi mesi fa una certificazione antincendio completa e quindi in passato si è sempre lavorato in deroga con permessi provvisori. Questa cosa dal 2016 non è stata più consentita dagli organi di vigilanza però noi stiamo attivando tutte le attività necessarie per poter avere la certificazione definitiva e quindi poi far giocare nuovamente l'Atripalda Volley e le altre società anche con la presenza del pubblico sempre in numero molto limitato perché in realtà è una palestra comunque senza spalti quindi con numeri piccoli. Però ripeto stiamo facendo tutto quello che è necessario, ci risentiremo anche con le società per quanto riguarda la presenza del pubblico probabilmente se ne riparlerà all'inizio della nuova stagione però per le loro attività sportive le palestre sono disponibili.